macro categoria studi e boutique legali e professionali categoria diritto amministrativo il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno contrattualistica pubblica la motivazione la leggiamo subito per garantire al cliente un'assistenza efficace e integrale con l'apporto di qualificate professionalità altamente specializzate per l'efficace e costante aggiornamento e per il raggiungimento di risultati sempre certi e costanti e andiamo a vedere chi si aggiudica questo premio the winner is studio legale del giudice and lombardi e collegato con me abbiamo il founder e managing partner dello studio naturalmente rizzardo del giudice benvenuto grazie per essere con noi grazie a voi un commento su questo riconoscimento partiamo da qui questo riconoscimento che reitera analogo apprezzato riconoscimento del 2019 ci da conferma come componenti dello studio parlo a nome mio ma è anche di tutti i miei collaboratori e ovviamente anche dell'avvocato pietro lombardi che con me ha creato lo studio che voi avete gratificato di questa in questo premio ci conferma che l'impegno anche in momenti particolarmente difficili determina sempre un ritorno efficace e prestigioso al cospetto dei clienti e quindi anche al cospetto di coloro che valutano l'efficacia e il buon risultato delle realtà professionali questo ci induce anche per il 2021 ad analogo impegno riteniamo che nel settore della contrattualistica pubblica settore nel quale da moltissimi anni da più di vent'anni io sono impegnato personalmente e negli ultimi anni sono impegnato anche con validi collaboratori di studio il settore dicevo sia comunque importante determinante ancor più oggi in questa fase di ripresa e di rinnovato entusiasmo per superare una situazione di particolare difficoltà assolutamente infatti non a caso insomma si è parlato di risultati sempre certi concreti nella motivazione però con un aggiornamento continuo è un po' ricollegabile a quello che lei diceva avvocato cioè il fatto di avere delle basi da cui partire che poi riescono a tenere la forza anche i momenti più più delicati negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva integrazione tra il mondo della imprenditoria e quindi tra le realtà imprenditoriali tradizionali i modelli societari e i modelli di gestione della pubblica amministrazione il nostro studio si è occupato costantemente sia nella applicazione di modelli già esistenti sia nella individuazione e nel perfezionamento di modelli contrattuali che garantiscano da un lato l'ottenimento dei risultati che sono oggettivamente e notoriamente l'obiettivo della struttura imprenditoriale tradizionale privata dall'altro assicurino protocolli di legalità e di efficienza che sono elementi fondamentali nella gestione della pubblica amministrazione ottimo avvocato insomma e quindi come guardare al futuro brevemente prima di salutarla dunque il futuro sarà sicuramente dal mio punto di vista contraddistinto da una pluralità di sfide la prima sfida sarà sicuramente sul fronte tecnologico il modello con cui oggi stiamo colloquiando io e lei e fortunatamente sta diventando uno strumento di collegamento anche tra le realtà professionali e le aule giudiziarie l'esperienza gestita nel periodo di emergenza e anche tuttora ovviamente in corso ha dimostrato che è possibile gestire in termini di efficienza e di risultato anche la macchina giudiziaria e questo è il primo obiettivo che sul fronte del contenzioso la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia dovranno perseguire con la collaborazione dei magistrati degli avvocati e con il proposito e la determinazione di affrontare tecnologie nuove e di migliorarle sotto il profilo della contrattualistica in senso proprio la semplificazione già avviata con il decreto di luglio scorso è indubbiamente il percorso più corretto per pervenire a risultati di efficienza e soprattutto di immediatezza nella conclusione dei contratti con le pubbliche amministrazioni evitando sia i ritardi nell'avvio delle nuove iniziative sia soprattutto il pericolo che un contenzioso motivato da un appesantimento burocratico tolga in definitiva efficienza alla macchina che il decreto semplificazioni si è proposto di costruire e di definire nella struttura generale salvo poi ovviamente i provvedimenti di dettaglio. Assolutamente sì va bene allora intanto naturalmente io rinnovo i complimenti a lei all'avvocato Lombardi a tutto il vostro studio complimenti per questo riconoscimento e la ringrazio ringrazio Rizzardo del Giudice founder e managing partner appunto dello studio. Grazie a voi e complimenti ancora per l'iniziativa grazie grazie insomma iniziativa che va a premiare le eccellenze italiane quindi assolutamente al centro grazie ancora